Nella giornata inizialmente promettente per l'Inter, le cose hanno preso una piega amara al meazza. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante essere andata avanti 2-0 grazie ai gol di Acerbi e Lautaro Martinez, ha concesso al Bologna di pareggiare il punteggio. Un evento che non si verificava da molto tempo, secondo le analisi di Giuseppe Pastore, un giornalista esperto di dati sportivi, in serie all'Inter non sprecava un vantaggio doppio in casa dal 26 agosto 2018, quando il risultato finale fu di 2-2 contro il Torino. In quella partita, dopo i gol iniziali di Perisic e Debris, il Torino riuscì a pareggiare con le reti di Belotti e Meite, San Siro, che dovrebbe essere una fortezza per i Nerazzurri. Sembra ora essere diventato un terreno in cui l'Inter ha perso punti importanti in questa stagione, soprattutto contro Sassuolo e Bologna. È ben noto che le grandi vittorie si costruiscono principalmente tra le mura di casa, e questa recente serie di risultati negativi rappresenta una delusione per la squadra e i suoi sostenitori.